Sono stati resi noti nel corso di un incontro a Cosenza i risultati del progetto Dialogos, a cura dell'osservatorio dipendente dell'ASP, un progetto finanziato con il Fondo Nazionale della Lotta alla Droga dalla Regione Calabria. Ha avuto come obiettivo la costituzione di una rete interistituzionale nel nostro territorio per affrontare le diverse tipologie di dipendenza. Oggi le dipendenze sono cambiate, non è più solo eroina, cocaina. Ci sono le dipendenze senza sostanza, quindi siamo costretti ad affrontare il gioco d'azzardo, le internet addiction, il sex addiction, cioè una nuova tipologia di dipendenze che richiede una specificità di intervento, non solo, ma una specificità di intervento anche rispetto al maschile e al femminile. Cioè i trattamenti per le donne, la cura per le donne è diversa dalla cura per gli uomini. Dobbiamo ricercare la diversità per dare risposte sempre più giuste, adeguate ai bisogni che esistono sul territorio. Qual è la situazione nella provincia di Cosenza? Guardi, nella provincia di Cosenza diversi aspetti. I CERT continuano i servizi per le tossicodipendenze, continuano ad avere dipendenze da sostanze, quindi da eroina, da cocaina e altre tipologie di sostanze che addirittura non se ne conosce neanche il principio. Le cosiddette sostanze sintetiche. Esatto. Però i servizi per le tossicodipendenze devono affrontare anche il gioco d'azzardo, per esempio. Devono affrontare, che sono nuove emergenze. Come dire, ad un'evoluzione tecnologica, culturale, c'è anche un'evoluzione purtroppo della tipologia di dipendenze che si va ad affrontare. E i servizi hanno necessità di essere sempre più specialistici, sempre più pronti a nuovi trattamenti, a nuove cure, sempre più mirate. E nello specifico mirate per l'uomo, per la donna, per l'omosessualità. Per quindi tutte le differenze di genere, ripeto, per riuscire a dare risposte terapeutiche sempre più specifiche.